Mi chiamo Francesca Sardo, sono un'insegnante di scuola primaria e vivo a Santa Teresa Gallura. Distruzione, terrore e dolore sono i termini con cui descriverei la guerra, che porta a effetti devastanti alle popolazioni colpite e soprattutto ai bambini, che non scorderanno mai e poi mai i rumori assordanti delle armi da fuoco e dei bombardamenti.